Sorriso a Miternina nel 22esimo turno di eccellenza. I giallorossi superano a domicilio un modelfino flaccoporto e da stasera si attestano a quota 20 punti a meno uno dalla coppia Nero Stellati Miglianico. Artiglieria pesante in prima linea per Angelone che si affida al trio Facecchia, Santi Rocco, Alfonsi. In mediana chiavi affidate a Massimiliano Tuzzi. Tra gli ospiti il collega Bonati punta sull'estro di Ligoschi. Dieci reti stagionali. Silvestri, Bratelli e Tinemori rappresentano la cerniera di centrocampo. Fischietto in bocca per Leone di Avezzano. Minuto 14. La prima minaccia del Delfino va a segno. Ligoschi dal limite. Motalità da all'ound e palla all'incrocio. 0-1. La Miternina ha il merito di non disunirsi. Diciannovesimo. Gli scoppitani scrivono l'1-1. Romano asfalta la fascia di destra e scarica in mezzo. Alfonsi prende il pennello, parabola a giro ed è 1-1 dalla lavagna alla pratica. La furia della Miternina non è ancora finita. Ventesimo. Funziona l'asse. Santirocco fa cecchia. Il primo tocca. Il secondo finalizza. 2-1. Nella ripresa è subito squillo Delfino. Ci prova Saltarin. Fuori. I piescaresi prendono in mano il comando del gioco. Diciottesimo. Ligoschi su punizione, rammendo Rossetti. Trentesimo. Si rinnova il duello. Rossetti però scende con i tempi giusti ed è potenza del pericolo. Nel momento migliore del Delfino, la Miternina cala il tris. Su punizione di Tuzzi, Di Michele va a scucire il parziale rattoppo di falso. È la rete che spacca in due la gara. L'azione registra l'ultima emozione del match. Acqua e sapone nel turno di mercoledì e nel reto tra sette giorni misureranno le ambizioni scoppitane. Negli spogliatoi ascoltiamo il tecnico del Delfino, Guilamo Bonati e il centrocampista della Miternina, Massimiliano Tuzzi. È stata una partita bella, secondo me, soprattutto nel primo tempo. Sapevamo del valore della Miternina e secondo me risalirà velocemente a classifica. Ovviamente lo prendono come un augure, non come una cosa brutta, perché è quello che ho visto e quello che mi aspettavo. Grande qualità in attacco, grandi giocatori a metà campo, Tuzzi su tutti. Il gol del vantaggio non li ha scalfiti minimamente, sono andati a continuare a giocare, lo sapevamo, sono andati meritatamente in vantaggio. Poi noi abbiamo fatto bene, nel senso che li abbiamo costretti sulla fase difensiva. Qualche mischia la potremmo sfruttare meglio. Il portiere loro ha fatto dei beni interventi sulle punizioni di Ligoschi. Poi su una ripartenza, una punizione al limite, il gol del 3-1 ci può stare dopo tante buone partite, dopo tanti buoni risultati. Sicuramente i nuovi arrivi ci hanno dato una grande mano. Penso che stiamo raccogliendo anche qualcosa che meritavamo i mesi addietro. Parlo della partita di oggi. Credo che abbiamo incontrato una squadra in salute, molto preparata a livello tattico. Sono partiti molto forti, meglio di noi. Siamo stati bravi a non scoraggiarci, metterci lì, fare la nostra partita e a portarla dalla parte nostra. Va bene così, speriamo di continuare così.